uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi quanti aggiornamenti e quante novità sono state introdotte anche in segreto con la patch 9.41 quella che abbiamo scaricato ieri pomeriggio intorno alle 14 e 30 e che ha visto l'arrivo di molte cose che non ci aspettavamo nel video di oggi ragazzi parleremo finalmente della trama della season numero 10 sembra finalmente essere venuta a galla ciò che dovremo aspettarci nella prossima season che inizierà vi ricordo il primo agosto saremo in live ovviamente per viverla insieme pezzo per pezzo leaks per leaks ma anche ragazzi parlo del nuovo stile di pesce secco sì perché ne arriva un altro per tutti i possessori ovviamente di pesce secco con un tema molto molto interessante e ragazzi mille v bucks gratis a un sacco di player dati nella giornata di ieri e ancora da dare nella giornata di oggi io purtroppo non li ho ricevuti ma magari qualcuno di voi ha i requisiti per ottenerli volevo prima di iniziare ringraziare però tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xiodarone quando suppazzate di prepotenza nello shop grazie a tutti per il supporto mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima ve la devo fare raga la domandina ci tengo tantissimo mi rispondete non so come faccio a mettervi cuori a tutti perché siete tantissimi che mi rispondete domanda di oggi davvero semplicissima per i più sapranno già cosa vi sto per chiedere ma come ti sembra il nuovo fucile da cecchino insomma ragazzi è arrivato ieri con appunto l'update 9.41 sappiamo nelle due varianti sappiamo che fa 81 85 sappiamo ovviamente che ha la particolarità di avere il mirino che ci indica proprio i cerchi della tempesta io l'ho provato ci ho fatto due kill ci sta ho fatto un 202 in testa ieri pomeriggio in live tanta roba dico no per un motivo molto semplice mi distrae troppo il mirino nel senso cioè inevitabile che vai a guardare dove cavolo sono i cerchi e secondo me perdi quell'attimo che potrebbe invece servirti per magari fare un headshot o comunque hittare un avversario ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare del compleanno di fortnite in una maniera molto molto interessante sì perché arriva proprio un elenco di cose scritte sul sito di epigames e ve ne regalano i tre outfit speciali per le skin che già abbiamo i tre loading screen quindi le tre schermate di caricamento è una valanga di punti esperienza con premio finale di 15.000 punti esperienza per appunto livellare prepotentemente il vostro personaggio vi ricordo se non ce la faceste che comunque a livello 100 stagionale si sbloccano lo spray l'emoji e lo standardo per il personaggio ma anche il secondo compleanno di fortnite è in arrivo c'è un po una discrepanza nel senso sul sito di epigames scrivono che oggi pomeriggio arrivano le sfide del compleanno e sarebbe tempisticamente giusto perché oggi è il 24 luglio quindi il compleanno ufficiale del battle royale ovviamente di fortnite però in realtà ragazzi hanno twittato nel tardo pomeriggio di ieri the birdie cakes and birdie present will be available on july 25 saranno disponibili ragazzi il 25 quindi domani staremo a vedere se per caso c'è qualcosa che non mi è stato chiaro a me o se semplicemente magari hanno avuto dei contrattempi e quindi dovranno ritardare la cosa importante però è che io leggo nella scritta che hanno messo loro sul sito ufficiale lo potete trovare nella sezione notizie innanzitutto ci sarà un bus della battaglia tutto a tema la canzogenea del compleanno e tutte le minchiate varie ma la cosa che ci interessa dice dove caspita è che ve l'ho letto prima ed è interessantissimo perché ci sarà nel negozio un ballo che sarà disponibile solo nel compleanno ora non lo riesco a trovare perché non l'ho evidenziato purtroppo ma tra l'altro ci dicono anche che nella finale delle world cup anche in quell'occasione nel negozio sarà presente un oggetto unico diciamo che non verrà più proposto nel futuro di fortnite quindi ragazzi vi invito ad andare a dare un'occhiata ovviamente nella sezione notizie per rimanere super aggiornati confermato sembrerebbe anche il backpack con il numero 2 ragazzi quindi che indica proprio il secondo compleanno di fortnite ma andiamo avanti a parlare di argomenti interessanti e qua si parla di trama della season numero 10 innanzitutto parlando e partendo da questa immagine le quattro fasi aggiornate fino a ieri della sfera che è appunto nel centro di sponde del saccheggio come vediamo e come oramai abbiamo capito cambia ogni giorno mettono qualcosa in più vibra di più, brilla di più, si vedono dei movimenti strani ma la cosa che ci interessa ragazzi è questa immagine da qua si collega tutta la trama della season 10 è stata aggiunta nella patch 9.41 di nuovo rapide rischiose che senso ha che abbiano raggiunto rapide rischiose ve lo voglio dire facendovi vedere prima un video che è davvero molto molto interessante e che vale la pena se trovo com'è l'audio ok fantastico vale la pena di vedere ascoltate bene ascoltate bene zero point evento del razzo come vi ricorderete sicuramente ragazzi l'evento del razzo è stato incredibile meraviglioso è tutto quello che volete ma ci era sfuggito probabilmente che è una voce diceva proprio zero point e zero point è la stessa cosa che Donald Mustard ha messo nella sua location quindi quando lui modifica la location di solito cambia qualcosa da qua cosa vuol dire il punto zero lo zero point è visto proprio come un ritorno alle origini come un qualcosa che stravolge il continuo un tempo spazio se volessimo utilizzare un aggettivo corretto non so neanche se sia un aggettivo comunque è un termine corretto se volessimo essere precisi sembrerebbe che la trama della season 10 siano proprio i viaggi nello spazio e quindi il reinserimento di rapide rischiose sembra davvero che possa voler dire una combinazione della mappa con elementi delle season precedenti una cosa davvero interessantissima e ovviamente vi ricordo che al termine di questa settimana arriveranno anche i primi teaser della season numero 10 e ovviamente da lì si tireranno conclusioni più accurate sulla trama ma mi sembra davvero corretta tra l'altro questo è proprio il tweet che mi ha fatto capire che siamo sulla strada giusta ovviamente per il tema della nuova season e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento eccoli qua 1000 V-Bucks e 15 stelline del pass battaglia gratuiti per tutti gli utenti di iOS infatti me lo avete detto anche in chat io non capivo adesso invece ho capito ci sono stati dei problemi con il download della patch 9.41 per gli utenti Apple e quindi Fortnite per scusarsi dice proprio we apologize for the inconvenience cioè noi ci scusiamo e vi regalano 1000 V-Bucks e 15 stelline quindi ragazzi se per caso non le aveste ancora ricevute e siete da iOS pazientate perché molto probabilmente arriveranno anche per voi e se abbiamo tempo chiudiamo ragazzi con l'ultimo argomento che è il nuovo stile del pesce secco volevo farvelo vedere in anteprima ragazzi stile delle World Cup per il pesce secco lo troverete anche nel trailer ufficiale che ho pubblicato su Instagram quindi andata dagli un occhio purtroppo non ho il tempo materiale per farvelo vedere adesso ma questa è un'immagine che ce lo fa proprio capire ed è veramente meraviglioso sul braccio destro tatuato tutto tutto il logo delle World Cup io ragazzi con l'immagine del pescione vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi iniziamo la live alle 8 ciao 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 ciao